ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo di occhi chiari e occhi scuri no non è un video che parla di oftalmologia ma riguarda un esperimento contro il razzismo che divise una classe di terza elementare un'antica preghiera siù recita o grande spirito trattienimi dal giudicare un uomo finché non avrò camminato nei suoi mocassini nel corso degli anni 50 e 60 del ventesimo secolo il movimento per i diritti civili degli afroamericani imperversò negli stati uniti con lo scopo di porre fine alla segregazione razziale e alla conseguente discriminazione della popolazione afroamericana sebbene il movimento avesse numerosi sostenitori fra i bianchi molti altri esponenti erano a favore del mantenimento della segregazione razziale abituati forse a considerare le persone afroamericane come inferiori o semplicemente credendo a delle supposte e infondate teorie biologiche proprio al fine di far comprendere quanto la discriminazione portata dalla segregazione razziale avesse effetti devastanti sulle vite di chi la subiva ogni giorno un insegnante di scuola elementare decise di condurre un esperimento nella sua classe in modo da far camminare i suoi alunni nei mocassimi di un bambino afroamericano per un giorno l'esperimento divenne noto come esercizio blue eyes brown eyes alla fine degli anni 60 a riceville nello stato dell'iowa vivevano meno di mille persone e la vita nella cittadina statunitense trascorreva di una tranquilla routine fra la messa della domenica mattina le giornate di lavoro e le lezioni alla locale scuola elementare la popolazione era per la maggior parte composta da bianchi jane elliot conosceva riceville come le sue tasche nata e cresciuta in quella cittadina dopo il diploma jane si era trasferita a cedar falls per conseguire l'abilitazione come maestra elementare dopo alcuni anni aveva deciso di far ritorno alla sua piccola città per insegnare alla scuola di riceville a 35 anni jane elliot era sposata aveva quattro figli ed era maestra in una classe di terza elementare composta esclusivamente da bambini caucasici la sera del 4 aprile del 1968 jane decise di accendere la tv per avere un po di compagnia mentre stava stirando e si trovò di fronte a un segmento del telegiornale che dava la notizia dell'omicidio di martin luther king martin luther king aveva ricevuto il premio nobel per la pace quattro anni prima nel 1964 ed era uno dei leader del movimento per i diritti civili ispirato dalla sua fede cristiana dagli insegnamenti di gesù cristo e dall'attivismo non violento del mahatma gandhi martin luther king aveva condotto numerose proteste non violente e campagne di disobbedienza civile il reverendo martin luther king era stato assassinato proprio quel giovedì 4 aprile 1968 ucciso da un colpo di pistola alla testa la sua morte gettò nello sconforto la popolazione afroamericana sfociando anche in disordini cittadini jane eliot assistette sconvolta al notiziario e iniziò a pensare al discorso da tenere ai suoi alunni il giorno successivo quando la mattina del 5 aprile jane eliot ebbe una rapida conversazione sull'omicidio di martin luther king con alcuni colleghi nell'aula insegnanti della scuola elementare di riceville rimase perplessa dal fatto che nessuno di loro avesse pianificato di dire o fare qualcosa per discutere con i propri alunni della questione una volta arrivata in classe composta da 28 alunni jane eliot scoprì che tutti i bambini non avevano compreso perché martin luther king fosse stato ucciso né che cosa questo comportasse tutti loro avevano una vaghissima idea di cosa fosse la segregazione razziale e di ciò che comportasse venire discriminati a quel punto jane eliot domandò ai suoi alunni se per comprendere meglio come si dovesse sentire un bambino afroamericano volessero provare a vivere per un giorno come vivevano tutti i bambini che subivano la segregazione razziale si levò un coro di sì entusiasti e la maestra diede il via all'esperimento jane eliot preferì presentare l'esperimento ai suoi alunni come un esercizio forse per adattarlo meglio al contesto scolastico o forse perché nella sua ottica quello era veramente un esercizio per far comprendere ai bambini la realtà della discriminazione la maestra andò alla lavagna e scrisse a caratteri cubitali la parola melanina procedendo a spiegare come essa fosse il pigmento che determina il colore dei capelli della pelle e degli occhi aggiunse tuttavia un'informazione deliberatamente falsa sostenendo che la melanina influenzasse anche l'intelligenza delle persone jane eliot mentì dicendo che la maggior quantità di melanina nell'organismo andasse di pari passo con un'intelligenza più spiccata la maestra proseguì spiegando che i bambini con più melanina avessero gli occhi più scuri e fossero più intelligenti degli altri a quel punto separò gli alunni con gli occhi azzurri dagli alunni che avevano gli occhi neri e castani jane iniziò a sminuire i bambini con gli occhi chiari sostenendo che fossero di gran lunga meno intelligenti dei bambini con gli occhi scuri che si fossero solo in grado di perdere tempo che non ricordassero nulla di ciò che veniva loro insegnato e che non fossero in grado di giocare o lavorare senza rompere ciò che stavano utilizzando al contrario i bambini con gli occhi scuri erano più brillanti più ordinati ed eseguivano meglio i compiti assegnati in classe per aumentare il senso di separazione fra i due gruppi jane fabbricò delle bande di cartone verde e chiese a ogni bambino con gli occhi chiari di indossarne una al braccio e dichiarò che da quel momento in poi tutti gli alunni con gli occhi chiari avrebbero dovuto usare dei bicchieri di plastica per bere l'acqua dal rubinetto in classe quando un bambino dagli occhi scuri insinuò che quest'ultima regola fosse in realtà una precauzione poiché chi aveva gli occhi chiari avrebbe potuto infettare gli altri alunni con qualche malattia jane non smentì dopodiché la maestra iniziò con la lezione portandola avanti come se fosse stata una comune mattinata scolastica ma le fratture causate all'interno della classe dalla divisione sulla base del colore degli occhi cominciarono a emergere fin da subito così come i cambiamenti nelle personalità dei bambini jane notò che i suoi alunni con gli occhi scuri che fino a quella mattina stessa erano stati timidi e introversi iniziarono a comportarsi in maniera più esuberante e anche quelli che avevano difficoltà di apprendimento riportarono prestazioni migliori negli esercizi in classe e acquisirono più fiducia in se stessi questo tuttavia incise in maniera negativa su altri aspetti del comportamento i bambini con gli occhi scuri iniziarono a dimostrarsi prepotenti e beffardi nei confronti dei loro compagni con gli occhi chiari quando un bambino sbagliò una banale operazione di matematica alcuni compagni con gli occhi scuri dissero che era normale che avesse compiuto un tale errore poiché aveva gli occhi chiari e dunque era poco intelligente i bambini con gli occhi chiari dal canto loro mostrarono un calo generale delle loro prestazioni scolastiche una bambina dagli occhi azzurri che era sempre stata molto brillante e capace in aritmetica iniziò a compiere errori di moltiplicazione e a dimenticarsi le tabelline in generale jane eliot notò che gli alunni con gli occhi chiari avevano subito un crollo della loro motivazione e dell'umore spesso si affliggevano o piangevano di fronte a un semplice sbaglio e si erano auto isolati in un atteggiamento remissivo e sottomesso nei confronti dei compagni con gli occhi scuri nel corso dell'intervallo dopo la pausa pranzo due bambine con gli occhi scuri che stavano passeggiando a braccetto si videro la strada sbarrata da una compagna di classe con gli occhi chiari e una di loro disse dovresti scusarti con noi per esserti messa in mezzo perché noi siamo migliori di te la bambina dagli occhi chiari chinò il capo e si scusò il lunedì seguente jane eliot tornò in classe annunciando di essersi sbagliata dichiarò infatti che una minor quantità di melanina in corpo fosse segno di intelligenza più spiccata e che dunque i bambini con gli occhi chiari erano in realtà più brillanti la maestra ripete l'esercizio e notò le medesime reazioni del venerdì precedente nei gruppi che ora si trovavano alternatamente in una posizione dominante o svantaggiata al termine della giornata jane annunciò di aver mentito riguardo l'influenza della melanina sull'intelligenza e che quello era in realtà l'esercizio a cui la classe aveva chiesto di essere sottoposta alcuni bambini scoppiarono a piangere di sollievo altri si strinsero in degli abbracci sollevati jane si assicurò che nessuno di loro fosse rimasto troppo scosso dall'esperienza dopodiché chiese loro di scrivere un breve testo su quell'esercizio jane eliot non aveva pianificato di portare avanti il suo esperimento oltre lunedì 8 aprile e si limitò a correggere i temi dei bambini e a farli leggere a sua madre margaret raccontandole dell'esperienza era semplicemente felice che i suoi alunni avessero potuto comprendere i sentimenti di chi veniva discriminato solo in base al colore della sua pelle fu margaret a pensare che l'esercizio della figlia meritasse più visibilità così consegnò i temi dei bambini all'editore di un settimanale locale l'esperimento estralci degli elaborati dei bambini vennero pubblicati su riceville recorder con il titolo come ci si sente a essere discriminati alcuni bambini avevano scritto dei sentimenti di superiorità che avevano approvato nei confronti dei loro compagni ritenuti poco intelligenti e di come si sentissero legittimati anche a far loro del male solo perché sapevano essere inferiori a loro altri alunni dichiararono che l'essere stati discriminati anche solo per un giorno avesse insinuato in loro un profondo senso di tristezza tanto da aver pensato di non tornare più a scuola jane eliot disse credo che questi bambini abbiano camminato nei mocassini di un bambino di colore per un giorno più la fama di jane e il suo esperimento crescevano più le critiche iniziarono a piovere sull'insegnante e sull'esperimento stesso jane ricevette molte lettere in cui accusavano il suo esercizio di essere crudele e di aver traumatizzato per sempre dei bambini in nome del suo ego una di esse recitava i bambini neri crescono abituati a questo comportamento ma non c'è modo che i bambini bianchi lo comprendano jane iniziò a essere isolata dagli suoi colleghi a scuola sentendo gli altri insegnanti bisbigliare alle sue spalle e vedendoli alzarsi e andarsene ogni volta che lei entrava in una stanza la drogheria di suo marito vide entrare un sempre minor numero di clienti e i suoi figli furono vittime di bullismo a scuola uno di loro venne violentemente picchiato da un compagno mentre le due figlie furono accusate di prostituirsi con uomini afroamericani tuttavia l'esperimento diede i suoi frutti volto a far comprendere quanto assurda fosse la discriminazione basata su un tratto meramente fisico o biologico e come si sentisse chi subiva questa ingiustizia ogni giorno della sua vita l'esercizio blue eyes brown eyes fece capire ai bambini della classe e a tutti coloro cui jane lo sottopose negli anni a venire quali fossero gli effetti della segregazione razziale profonda tristezza senso di isolamento e perdita di autostima esso ebbe inoltre la capacità di suscitare empatia il giorno del lunedì infatti jane eliot notò che i comportamenti discriminatori messi in atto dai bambini con gli occhi chiari ai danni dei bambini con gli occhi scuri seppur presenti erano più attenuati e meno incisivi rispetto al venerdì precedente l'insegnante attribuì questo comportamento al fatto che gli alunni con gli occhi chiari avendo subito sulla loro pelle la discriminazione fossero meno propensi ad attuare gli stessi comportamenti discriminatori sui loro compagni di classe avevano imparato dunque a camminare nei mocassini di qualcun altro prima di giudicarlo